La passione per la musica, l'esigenza di trovarsi in gruppo, la rabbia e la protesta, l'insofferenza verso le definizioni e le etichette. Giovanni Taranto, stilista, due negozi di abbigliamento giovanile, uno a Torino, l'altro a Milano, polimizza con la tendenza a ridurre a puro folclore il fenomeno delle bande giovanili. Dark, ossia neri, perché? Il movimento punk è iniziato veramente nel 77, era una corrente culturale, non era solamente un modo di vestire o di conciarsi. Vuol dire per te essere punk? Dico, per te ragazzo di quanti anni? 17 17 che vive a Milano, cosa vuol dire essere, anzi post-punk, come ti sei definito tu? Anarchico.